a gusto Giorno Allora, senti, sono venuta per una cosa Leonardo Moore, quel qualche mese fa mi ha chiesto di fidanzarmi con lui ok? Il problema è che ho scaricato questa applicazione dove posso vedere dove è ok e lui vedo sempre che va in un posto da qualcuno o qualcuna e forse a un'altra quindi tu mi devi fare il testimone da Leonardo Biondo perché ho chiamato anche lui, ok? va benissimo andiamo, perfetto dovrebbe arrivare a momenti chi è? Leonardo? Leonardo, sempre Leonardo quello biondo guarda Augusto, vieni qua Leonardo Moro è qui, vedi noi siamo qui Leonardo Moro è qui, siamo vicini e va sempre in questo posto perché secondo me c'è qualcuno che sta aspettando o è già con qualcuno mi sento un motorino, cioè lui eccolo, lui ragazzi che succede? allora, dobbiamo andare esattamente qui in questa piazzola c'è Leonardo Moro ah ok, e chissà magari c'è qualcun'altra però aspetta, non mi devo far riconoscere giusto, bella idea allora ti ho preso un casco ok, Charlotte non sarà più Charlotte da oggi mi chiamo Rebecca ok, va bene Rebecca ok, tieni, fai spazio a Rebecca ah scusate, ma io? i posti sono due quindi verrai a piedi come vuoi? ma come vado a via? Simma ragazzo aspettatemi mi sembra di vedere qualcuno lì ragazzi vado io tranquilli vado io, voi restate qua e nascondetevi dietro il cespuglio ok ok ma con chi è Leonardo Moro? che ci fai qua? ciao ciao Leonardo Moro che sei Leonardo Bianco? sì, sono io no, io sono la vostra grandissima davvero? molto piacere e che ci fai qua? sono passato di qua, mi sono fermato qua con lei vabbè, io sono con Rebecca e Augusto sono, sono là ehm non lo so stavamo pensando di andare a casa mia c'è la piscina facciamo colazione insomma andiamo a casa mia? vabbè è qua vicino ci vediamo là? ok, vi mando la posizione dopo grazie ma sei sicura di andare? sì, certo ma che problema c'è? ci divertiamo fai vedere mi ha già mandato la posizione perfetto, andiamoci divertiamo se sei convinta te andiamo ciao secondo te hai davvero baciato quella ragazza? sì si sono baciati li ho visti chiaramente e poi tanto lo sai come è Leonardo Mora, no? ci prova con tutte quindi non mi stupirebbe Augusto te lo tiro in testa smettila ciao ciao venite ciao bella la sua casa ma è tua? grazie sì, è tutta mia eccoci e quindi ma tu cosa ci fai qui? ma sei tu? ma non ci credo io te l'avevo detto che erano insieme scusa Leonardo tu cosa ci fai qui? con la fabbricchetta siamo amici e poi andiamo in piscina andiamo in piscina andiamo in piscina ah ok l'unico di fronte che puoi filare sono io bene quindi io sparisco per un mesetto e ti trovi subito no cosa è successo? cosa è successo? ma siamo amici buon divertimento non capisco io e lei siamo soltanto amici che cosa mi chiami? me lo spieghi? ma perché non ho fatto niente io e io un mese fa ti avevo detto che aspettavo di tornare da Milano e ti rispondevo alla proposta adesso torno e sei con quella ragazza che ti baci perché l'ho visto ma dove l'hai visto? io non ho baciato con nessuno l'ha visto Augusto e l'ha visto Leonardo Biondo gli ha soffiato nell'occhio c'aveva un moscerino non lo so cosa c'aveva certo come no guarda che l'ho visto Leonardo Biondo me l'ha detto ma che è successo? ma mica è fidanzata con lui siamo solo amici sì ma in realtà era un po' complicata lei era a Milano vabbè chi vuole l'acqua? io grazie io fate due domande perché te l'ha detto ultimamente siete stati in vacanza insieme avete fatto i compiti insieme sì certo ma mica io mica l'ho baciato io e Leonardo Biondo beh certamente no va bene va bene eccolo ragazzi basta con questa scena è sempre la solita storia tanto no? ma tu che problemi hai? non eri fidanzata con Leonardo Biondo? ma comunque sei proprio bella ti volevo dire una cosa se facciamo un bel gioco che è la coppia più bella e più resistente sì ottima idea Augusto dai venite vieni Charlotte allora allora per decidere la coppia più resistente dovete sfilare sopra quest'oggeggio quindi vai Charlotte facciamogli vedere no inizio io per prima ah va bene ok vai Alessandra dai ce la puoi fare con il piede con l'altro no 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 non non fa parte di una coppia forte quindi adesso sto a me e vediamo se vinco sì sicuramente vai Charlotte for te mi raccomando equilibrio vado ce la puoi fare? ce la posso fare? vai resta in equilibrio ah ah no ah a gusto vai Augusto brava fai il bagnetto no 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 adesso tocca a voi ok visto che ve ne state a rindere ehi a gusto siccome vi siete divertiti a schizzarci bagnarci soprattutto te Augusto ora sta a voi vieni solo per questo gioco siamo amiche comincio io per primo ok no siccome vi siete divertiti prima adesso voi maschi dovete attraversare tutta la piscina sopra i gonfiabili in piedi e chi vincerà dovrà baciare una ragazza sott'acqua d'accordo siete pronti? chi è che va? io vado prima io allora buona fortuna Augusto ha perso vado io ok fermi no 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 piano 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 Leonardo abbiamo attraverso dai ma è difficile ragazzi spostatevi adesso va Leonardo Moro oh ho vinto eh non penso si bene quindi adesso facciamo sasso carta forbici io e Alessandra di chi bacerà Leonardo Moro pronta? certo sasso carta forbici bene lei bacerà Leonardo Moro e io bacerà me? sì sono il penultimo quindi me ok dai facciamo questa gara ok bene chi resiste di più in apnea sott'acqua vince e resterà insieme per sempre sì mettiamola così ok ci sei? sì pronti? 3 2 1 via oddio ma lo fanno davvero? vabbè vabbè oddio ci stanno baciando davvero dai dai io ce la bacio più ok ma abbiamo vinto? sì Charlotte io non volevo vincere un posto certo e quindi ti piaceva così tanto baciare Alessandra che hai addirittura vinto bravo vabbè dai non sei andata male tra di noi no? sarà stato il destino? sì però a me non mi è messo a caso niente io non ho mai avuto una copia perché giusto lui deve baciarsi quindi fate sasso carta forbici tra voi due dai sasso carta forbici ok quindi Alessandra va con Augusto lei va con Augusto perfetto buon divertimento è un'altra coppia ci vuole adesso per me? no? fate sasso carta forbici voi due vai sasso carta forbici quindi lui ha vinto io con Leonardo Moro io quindi guardo vai 3 2 1 via in acqua si stanno baciando veramente? vai muoviti ok hanno perso hanno perso ok abbiamo vinto no ragazzi non abbiamo vinto beh noi ce ne abbiamo ok? ciao Leonardo ciao ma dove la porti? no no fermo ma dove la porti? vieni veloci dove vai? dove dovremmo andare? forza eeeh dove vai te? no la porto solo in un posto è perché forza vieni vieni dove devo andare? ah 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 dove li fai portare? ma ma Aiuto, aiuto a togliere la maglia. Aspetta. Dobbiamo scappare subito da qua. Sì, sì, sì. No, 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 no. Ok. Attento. Mettili camminando. Aiuto, aiuto, aiuto. Ok, ferma, ferma. Sì, guarda. Non è stato semplice! Ma che fai? 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 In motorino. Era una lezione, non venivamo qua. Io te l'avevo detto però, eri sicura di venire? Ho sbagliato. Ho! 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 Grazie a tutti.